Ciao a tutti, da Mariangela Vacatello. Sono contenta di ritornare ad Aosta dopo il concerto che ho tenuto al Teatro Splendor un paio di anni fa. Vi invito quindi alla masterclass che terrò al Conservatoire della Vallée d'Aosta, sabato 29 e domenica 30 maggio. Non vedo l'ora di ascoltare tutti i talenti della zona. Ciao a tutti e a prestissimo! Grazie a tutti!